Di Honoré de Balzac, Papà Goriot, voce di Lorenzo Pieri, capitolo ottavo. Eugène si passò la mano tra i capelli e si contorse per salutare, credendo che ora la viscontessa avrebbe pensato a lui. Ma lei all'improvviso si precipitò nella galleria, corse alla finestra a guardare il signor da Giuda che saliva in carrozza e tese l'orecchio all'ordine che il domestico ripeteva al cocchiere, dal signor de Rochefid. Quelle parole e il modo in cui da Giuda scomparve nella carrozza furono il lampo e il fulmine per la donna, che tornò indietro in preda a mortali apprensioni. Sono queste nel bel mondo le più tremende catastrofi. La viscontessa entrò in camera da letto, si sedette al tavolino e prese un elegante foglio di carta. Dal momento che cena da Rochefid, scrisse, e non all'ambasciata inglese, mi deve una spiegazione, l'aspetto. Dopo aver ritoccato qualche lettera alterata dal tremito convulso della mano, firmò con una C che voleva dire Claire de Bourgogne e suonò il campanello. Jacques disse al cameriere subito a corso, alle sette e mezzo vada dal signor de Rochefid e chieda del marchese da Giuda. Se il marchese c'è, gli faccia portare questo biglietto senza attendere risposta. Se non c'è, mi riporti la lettera. La signora viscontessa ha una visita in salotto. Ah, è vero, disse spingendo la porta. Jeanne cominciava a sentirsi ben poco a suo agio, quando finalmente scorse la viscontessa, che gli disse con un tono vibrante di una tale emozione da toccargli le fibre del cuore. Mi perdoni, signore, dovevo scrivere due righe, ora sono tutta per lei. Non sapeva quello che stesse dicendo, perché in realtà pensava, vuole sposare la signorina de Rochefid, ma è forse libero. Stasera questo matrimonio andrà in fumo, o io, ma domani non se parlerà più. Cugina, rispose Jeanne. Eh? Fece la viscontessa lanciandogli uno sguardo così altero da raggelare lo studente. Jeanne capì quel eh. In tre ore aveva imparato tante cose da stare ormai in guardia. Signora, riprese arrossendo. Esitò prima di proseguire. Mi perdoni, ho bisogno di tanta protezione che un po' di parentela non guasterebbe. La signora de Beauzeon sorrise, ma fu un sorriso triste. Nell'aria già sentiva minacciare la sventura. Se conoscesse la situazione in cui si trova la mia famiglia, seguitò lui, le piacerebbe recitare la parte di una di quelle fate prodigiose che amano far svanire gli ostacoli intorno ai loro figliocci. Ebbene, cugino, disse la donna ridendo, in che cosa posso esserle utile? Non lo so neanch'io. Esserle unito da un vincolo di parentela che si perde nella notte dei tempi è già una gran fortuna. Lei mi ha turbato. Non so più che cosa fossi venuto a dirle. È la sola persona che io conosca a Parigi. Ah, mi volevo rivolgere a lei per chiederle di accettarmi come un povero bambino desideroso di attaccarsi alle sue sottane e che sarebbe disposto a morire per lei. Lei ucciderebbe una persona per me? Ne ucciderei due, disse Jeanne. Un bambino. Sì, lei è un bambino, disse la donna trattenendo qualche lacrima. Lei sì che saprebbe amare sinceramente. Oh, fece il giovane scrollando il capo. La viscontessa si interessò vivamente allo studente dopo quella sua risposta appassionatamente ambiziosa. Il meridionale era il suo primo calcolo. Tra il boudoir azzurro della signora de Restaud e il salotto rosa della signora de Bozéon, aveva frequentato tre anni di quel diritto parigino, di cui non si parla, benché costituisca un'alta giurisprudenza sociale che, imparata e praticata a dovere, conduce a tutto. Ah, ecco, disse Jeanne, avevo notato la signora de Restaud al suo ballo e stamani sono andato da lei. Chissà come l'ha disturbata, osservò sorridendo la signora de Bozéon. Eh sì, sono un ignorante che si metterà a tutti contro se lei mi rifiuta il suo aiuto. Credo che sia difficilissimo incontrare a Parigi una donna giovane, bella, ricca, elegante, che sia libera, e me ne occorre una che mi insegni ciò che voi donne sapete spiegare tanto bene, la vita. Troverò ovunque un signor de Traille. Venivo quindi da lei per chiederle la spiegazione di un enigma e pregarla di dirmi che genere di sciocchezze abbia commesso. Ho parlato di un papà, la signora duchessa de Lange, annunciò Jacques togliendo la parola allo studente che fece un gesto di violenta contrarietà. Se vuole riuscire, disse a bassa voce la contessa, in primo luogo cerchi di controllarsi. Oh buongiorno mia cara, riprese alzandosi e andando incontro alla duchessa, a cui strinse le mani con la carezzevole effusione che avrebbe potuto mostrare per una sorella, e alla quale la duchessa rispose con le più gentili affettuosità. Ecco due buone amiche, si disse a Rastignac. Di conseguenza avrò due protettrici. Queste due donne devono avere gli stessi affetti e anche l'altra si interesserà certo a me. A quale felice circostanza debbo il piacere della sua visita a mia cara Antoinette? chiese la signora de Boseon. Ho visto il signor da Giuda Pinto entrare dal signor de Rochefide e così ho pensato che lei fosse sola. La signora de Boseon non si morse le labbra, non arrossì. Il suo sguardo rimase immutato. Solo la fronte parve illuminarsi mentre la duchessa pronunciava quelle fatali parole. Se avessi saputo che era occupata, soggiunse la duchessa volgendosi verso Eugène. Le presento il signor Eugène de Rastignac, un mio cugino, disse la viscontessa. Ha notizie del generale Montriveau? proseguì. Serisi mi ha detto ieri che non si vedeva più, è venuto da lei oggi. La duchessa di cui si diceva che fosse stata abbandonata dal signore de Montriveau, del quale era perdutamente innamorata, a quella domanda sentì una stretta al cuore e arrossì rispondendo, ieri era all'Eliseo. Di servizio, precisò la signora de Beauzeon. Clara, lei sa sicuramente, riprese la contessa con occhi che sprizzavano malignità, che domani si faranno le pubblicazioni del signor Dajuda Pinto e della signorina de Rochefide. Il colpo era troppo violento. La viscontessa impallidì e rispose, ridendo, una di quelle chiacchiere di cui si dilettano gli sciocchi. Perché il signor Dajuda dovrebbe portare ai Rochefide uno dei più bei nomi del Portogallo. I Rochefide sono di nobiltà recente, ma da quel che si dice, Bert avrà 200.000 franchi di dote. Il signor Dajuda è troppo ricco per fare calcoli del genere. Però, mia cara, la signorina de Rochefide è incantevole. Ah, insomma, oggi cena da loro. Le clausole sono già stabilite. Mi stupisce davvero che lei sia così poco informata. «Che sciocchezza ha mai commesso, signore?» chiese la signora de Beauzeon. «Questo povero ragazzo è entrato in società così di recente che non capisce niente, mia cara Antoinette, di quello che stiamo dicendo. Sia buona con lui. Rimandiamo l'argomento a domani. Domani, capisce, le cose saranno certamente ufficiali e lei potrà essere ufficiosa a colpo sicuro». La duchessa rivolse a Eugène uno di quegli sguardi insolenti che investono un uomo dalla testa ai piedi, lo schiacciano e lo riducono a zero. «Signora, io ho senza saperlo affondato un pugnale nel cuore della signora de Restot. Senza saperlo, è questa la mia colpa», disse lo studente che aveva saputo far buon uso del proprio acume, rendendosi conto delle pungenti frecciate nascoste sotto le frasi affettuose delle due donne. Lei continua a frequentare e forse teme le persone consapevoli del male che le fanno, mentre colui che ferisce ignorando la profondità della ferita viene considerato uno sciocco, un inetto che non sa approfittare di niente e che tutti disprezzano. La signora de Bozion lanciò allo studente uno di quegli sguardi languidi in cui le donne sanno fondere riconoscenza e dignità. Quello sguardo fu come un balsamo che lenì la ferita inferta al cuore dello studente dall'occhiata da perito giudiziario con cui la duchessa l'aveva valutato. «Si figuri», proseguì Eugène, «che mi ero appena accattivato la benevolenza del conte de Restot, giacché devo confessarle, signora», disse rivolgendosi alla duchessa, con aria umile e insieme maliziosa, «che per ora sono soltanto un povero diavolo di studente, molto solo, molto povero. Non dica così, signor de Castignac, noi donne non vogliamo mai ciò che nessuno vuole». «Beh», fece Eugène, «ho solo 22 anni e bisogna saper sopportare gli inconvenienti della propria età. D'altronde sono qui a confessarmi ed è impossibile inginocchiarsi in un confessionale più bello. Vi si commettono i peccati di cui ci si accusa nell'altro». La duchessa reagì freddamente a quel discorso empio, di cui condannò il cattivo gusto dicendo alla viscontessa «il signore è appena arrivato, è appena arrivato e cerca una maestra che gli insegni il buon gusto». «Signora duchessa», riprese Eugène, «non è naturale volersi iniziare ai segreti di ciò che ci seduce». «Ah», pensò fra sé, «sono sicuro di star parlando come un parrucchiere». «Ma la signora de gesto è, credo, l'allieva del signor de trai», disse la duchessa. «Non lo sapevo, signora», riprese lo studente. «Perciò mi sono sventatamente intromesso fra loro. Insomma, avevo già trovato una buona intesa con il marito, mi vedevo tollerato per un po' dalla moglie. Quando mi è venuto in mente di dire che conoscevo un uomo che avevo visto uscire da una scala secondaria e che in fondo a un corridoio aveva baciato la contessa». «Chi è?», chiesero le due donne. «Un vecchio che vive con due Luigi al mese in fondo al Faubourg San Marceau, come me, povero studente. Uno sventurato che tutti scherniscono e che chiamiamo papà Goriot». «Ma che bambino è lei?», esclamò la viscontessa. «La signora de gesto, si chiamava Goriot da signorina». «La figlia di un pastaio», riprese la duchessa. «Una donnetta che si è fatta presentare a corte lo stesso giorno della figlia di un pasticcere. Non si ricorda, Clara?» «Il re si è messo a ridere e ha detto in latino una battuta sulla farina. Gente, com'è che diceva? Gente...» «I use them farine», disse Jeanne. «Ah, è suo padre», riprese lo studente con un gesto inorridito. «Proprio così, quel buon uomo aveva due figlie di cui è quasi pazzo, benché entrambe l'abbiano più o meno rinnegato. La seconda», disse la viscontessa, guardando la signora de Lange, «non è sposata con un banchiere che ha un nome tedesco, un certo signore de Nancy Jean. Non si chiama Delphine. Non è una bionda che ha un palco laterale all'opera, che viene anche ai buffon e ride molto forte per farsi notare». La duchessa sorrise. «Mia cara, io l'ammiro. Perché mai si occupa tanto di quella gente? Bisognava essere innamorati pazzi, come era Restot, per andare ad infarinarsi con la signora Anastasie. Oh, ne avrà solo noie. Lei è tra le mani del signor de Traille, che la perderà». «Hanno rinnegato il padre», ripeteva Jeanne. «Ebbene sì, il loro padre, il padre. Un padre», riprese la viscontessa, un buon padre, che a quel che si dice, ha dato a ciascuna cinque o seicentomila franchi per farle felici con un buon matrimonio, e che per sé si era asserbato solo otto o diecimila franchi di rendita, credendo che le figlie sarebbero rimaste sempre le figlie, e che con loro avrebbe avuto due esistenze, due case dove sarebbe stato adorato, coccolato. In due anni i generi l'hanno bandito dal loro ambiente come l'ultimo dei pezzenti. Qualche lacrima sgorgò dagli occhi di Jeanne, che le pure e sante gioie della famiglia avevano da poco rinvigorito, ancora suggestionato dalle credenze giovanili, e che era soltanto alla sua prima giornata sul campo di battaglia della civiltà parigina. Le autentiche emozioni sono così comunicative, che per un istante le tre persone si guardarono in silenzio. «Ah, mio Dio!» esclamò la signora Delanger. «Sì, tutto ciò sembra davvero orribile, eppure lo vediamo ogni giorno. Quale ne è la causa?» «Mi dica, mia cara, ha mai pensato che cos'è un genero? Un genero è un uomo per il quale alleveremo, io e lei, una dolce creaturina, alla quale ci uniranno mille vincoli, che per diciassette anni sarà la gioia della famiglia, che ne è l'anima candida, direbbe Lamartin, e che ne diverrà la peste. Quando quell'uomo ce l'avrà presa, comincerà col brandire il suo amore come una scure, per recidere sul vivo, nel cuore di quell'angelo, tutti i sentimenti che la legavano alla famiglia. Ieri nostra figlia era tutto per noi, noi eravamo tutto per lei, domani sarà nostra nemica. Non vediamo forse ogni giorno compiersi tragedie simili. In un caso la nuora è di un'estrema insolenza con il padre, che ha sacrificato tutto per il figlio. In un altro un genero mette la suocera alla porta. Mi chiedo che cosa ci sia di drammatico oggi nella società, ma il dramma del genere è spaventoso, senza contare i nostri matrimoni che sono diventati cose senza senso. Mi rendo perfettamente conto di ciò che è accaduto a quel vecchio pastaio. Mi pare di ricordare che quel forio, goio signora, sì quel morio, è stato presidente della sua sezione durante la rivoluzione. Era al corrente dei retroscena della carestia e a quei tempi ha cominciato a far fortuna, vendendo la farina dieci volte più cara di quello che gli costava. Ha fatto soldi finché ha voluto. L'intendente di mia nonna gliene ha venduta per somme incalcolabili. Quel goio, come tutti gli altri, divideva di sicuro i suoi guadagni con il comitato di salute pubblica. Ricordo che l'intendente diceva a mia nonna che se ne poteva stare tranquillamente a grandivier, perché il suo grano rappresentava un'eccellente carta civica. Ebbene, quel goio che vendeva grano ai tagliatori di teste ha avuto una sola passione. Da quel che si dice adora le figlie. Ha egregiamente sistemato la maggiore in casa del resto e ha rifilato l'altra al barone de Nancy Jean, un ricco banchiere che fa il realista. Lei capirà che sotto l'impero i due generi non consideravano disdicevole avere in casa quel vecchio 93. La cosa poteva ancora andare con buona parte, ma quando sono tornati i borboni il bravuomo era scomodo per il signor del resto e ancor più per il banchiere. Le figlie, che forse volevano ancora bene al padre, hanno voluto salvare capra e cavoli, il padre e il marito. Hanno ricevuto goio quando non c'era nessuno, inventando teneri pretesti. Papà, venga, staremo meglio, staremo soli, eccetera. Credo però, mia cara, che i sentimenti veri abbiano occhi e intelligenza. Il cuore del povero 93 ha quindi sanguinato. Ha visto che le figlie si vergognavano di lui, che se loro amavano i mariti, lui nuoceva i generi. Bisognava quindi sacrificarsi. Si è sacrificato perché era il padre. Si è messo al bando da solo. Vedendo le figlie contente, ha capito che aveva fatto bene. Padre e figlie sono stati complici in questo piccolo misfatto. È una cosa che si vede ovunque. Quel papà Doriot non sarebbe stato una macchia di morchia nel salotto delle figlie. Si sarebbe sentito imbarazzato, si sarebbe annoiato. Ciò che capita a quel padre può capitare alla donna più bella con l'uomo che ama maggiormente. Se lo annoia con il suo amore, lui se ne va e commette delle viltà per sfuggirla. Tutti i sentimenti sono così. Il nostro cuore è un tesoro, lo svuoti di colpo e sarà rovinato. Non perdoniamo a un sentimento di essersi mostrato nella sua pienezza come non perdoniamo ad un uomo di non avere un soldo. Quel padre aveva dato tutto. Aveva dato per vent'anni le sue viscere, il suo amore e in un sol giorno tutta la sua ricchezza. Spremuto il limone, le figlie hanno lasciato la scorza all'angolo della strada. Il mondo è infame, dichiarò senza alzare gli occhi la viscontessa e intanto sgualciva lo scialle, colpita sul vivo dalle parole che la signora de Lange aveva detto a sua intenzione raccontando quella storia. Infame, no, riprese la duchessa, va per la sua strada, ecco tutto. Se gliene parlo così è per dimostrarle che non mi lascio ingannare. Io la penso come lei, disse stringendo la mano della viscontessa. Il mondo è un pantano, cerchiamo di restare sulle alture. Si alzò, baciò in fronte la signora de Boseon, dicendole, è stupenda in questo momento mia cara, ha i colori più belli che abbia mai visto. Poi uscì chinando leggermente la testa verso il cugino. Papà Goriot è sublime, disse Jeanne ricordandosi di averlo visto mentre di notte torceva il suo servizio di vermei. La signora de Boseon, pensierosa, non sentì. Ci furono alcuni attimi di silenzio e il povero studente, per una sorta di vergognoso stupore, non osava né andarsene né restare né parlare. «Il mondo è infame e cattivo», disse infine la viscontessa. «Appena capita una sventura c'è sempre un amico pronto a dircelo e a frugarci nel cuore con un pugnale, facendoci ammirare il manico. Siamo già al sarcasmo, già allo scherno. Ah, ma io mi difenderò». Rialzò la testa da quella gran signora che era e i suoi occhi fieri lampeggiarono. «Ah», fece vedendo Jeanne, «lei è ancora qui». «Ancora», disse il giovane con voce miseranda. «Ebbene, signor de Rastignac, tratti questo mondo come si merita. Lei vuole arrivare, io l'aiuterò. Misurerà com'è profonda la corruzione femminile. Valuterà a che punto arriva la spregevole vanità degli uomini. Benché io abbia letto non poco nel libro del mondo. C'erano tuttavia pagine che ignoravo. Adesso so tutto. Più freddi saranno i suoi calcoli, più andrà avanti. Colpisca senza pietà e sarà temuto. Consideri uomini e donne solo come cavalli di posta che lascerà crepare ad ogni stazione. Così arriverà al massimo di ciò che auspica. Capisce? Non varrà nulla se non avrà una donna che si interessi a lei. Bisogna che sia giovane, ricca, elegante. Ma se prova un sentimento vero, lo nasconda come un tesoro. Non lasci mai che lo indovinino. Sarebbe perduto. Non sarebbe più il carnefice. Diventerebbe la vittima. Semmai dovesse amare, conservi con cura il segreto. Non lo confidi prima di sapere con certezza a chi aprirà il suo cuore. Per salvaguardare in anticipo un amore che non esiste ancora, impari a diffidare di questo ambiente. Mi ascolti, Miguel? Sbagliava ingenuamente nome senza rendersene conto. Esiste qualcosa di più spaventoso dell'abbandono del padre da parte delle figlie che lo vorrebbero morto. È la rivalità fra le due sorelle. Resto è di nobili origini. La moglie è stata accettata e presentata a corte. Ma la sorella, la ricca sorella, la bella signora Delphine de Nocijean, moglie di un uomo danaroso, muore di rabbia. La gelosia la divora. È a cento leghe dalla sorella, che non è più una sorella. Le due donne si rinnegano a vicenda come rinnegano il padre. Perciò la signora de Nocijean lapperebbe tutto il fango che c'è tra rue Saint-Lazare e rue de Grenelle per essere ammessa nel mio salotto. Ha creduto che de Marseille avrebbe fatto raggiungere il suo scopo. Così se ne è resa schiava e non gli da requie. De Marseille se ne cura ben poco. Se lei me la presenterà diventerà il suo beniamino. Sarà adorato. Dopo la ami, se può, altrimenti se ne serva. Io la vedrò una volta o due in qualche grande serata, quando ci sarà calca, ma non la riceverò mai di mattina. La saluterò e questo basterà. Lei si è chiuso la porta della contessa per aver pronunciato il nome di papà Gouriot. Sì, mio caro, anche se andasse venti volte dalla signora de Resto, venti volte non la troverebbe in casa. È stato messo al bando. Ebbene, si faccia presentare alla signora Delphine de Nancy-Jean da papà Gouriot. La bella signora de Nancy-Jean sarà per lei un vessillo. Si faccia scegliere da Delphine, le donne impazziranno per lei. Le sue rivali, le sue amiche, le sue migliori amiche glielo vorranno portar via. Ci sono donne che amano l'uomo già scelto da un'altra, come ci sono delle povere borghesi, che comprando i nostri cappelli sperano di acquistare le nostre maniere. Avrà successo. A Parigi il successo è tutto, è la chiave del potere. Se le donne trovano che lei ha spirito, ingegno, gli uomini lo crederanno, purché non li disinganni. Allora potrà esigere tutto. Sarà introdotto dappertutto. Allora saprà che cos'è il mondo. Una cozzaglia di vittime e di bricconi. Non faccia parte né degli uni né degli altri. Le offro il mio nome come un filo d'Arianna per entrare in questo labirinto. Non lo comprometta, disse curvando il collo e lanciando allo studente uno sguardo regale. Me lo restituisca senza macchia. Ora vada, mi lasci. Anche noi donne abbiamo le nostre battaglie da combattere. Se le occorre un uomo di buona volontà per andare ad appiccare il fuoco alla miccia, la interruppe Jeanne. Ebbene, chiese la viscontessa. Lo studente si batte il cuore, sorrise al sorriso della cugina e uscì. Erano le cinque. Aveva fame e temeva di non arrivare in tempo per l'ora di cena. Quel timore gli fece provare il piacere di essere trasportato velocemente per le vie di Parigi. Un piacere puramente macchinale che non lo distrasse dai pensieri che l'assillavano. Quando un giovane della sua età è colpito dal disprezzo, si agita, va in bestia, minaccia con il pugno la società intera, si vuole vendicare e dubita anche di se stesso. In quel momento era oppresso da queste parole. Si è chiuso la porta della contessa. «Ci tornerò», si disse, «e se la signora de Boseon ha ragione, se sono stato messo al bando io, la signora de Resto mi troverà in tutti i salotti che frequenta. Imparerò a tirar di scherma, a sparare con la pistola, le ucciderò il suo maxim». «E il denaro», gli gridava la coscienza, «dove mai andrai a prenderlo?». Di colpo, gli brillò davanti agli occhi la ricchezza sfoggiata in casa della signora de Resto. Vi aveva visto il lusso di cui doveva essere innamorata una figlia di Goyo. Dorature, oggetti di valore messi in mostra, il lusso ottuso del parvenu, lo sperpero della donna mantenuta. L'affascinante visione fu improvvisamente sopraffatta dal grandioso palazzo de Boseon. L'immaginazione, trasportata nelle alte sfere della società parigina, gli suscitò nella mente mille nefasti pensieri, spalancandogli il cervello e la coscienza. Vide il mondo così com'è, le leggi e la morale impotenti davanti ai ricchi, e vide nella ricchezza l'ultima razio mundi. Votrin ha ragione, la ricchezza è la virtù, fu la sua conclusione. Arrivato in rue Neuve-Saint-Genevieve, salì svelto in camera, scese per dare dieci franchi al cocchiere ed entrò in quella nauseabonda stanza da pranzo, dove vide come animali alla rastrelliera i diciotto commensali intenti a pascersi. Lo spettacolo di quelle miserie e l'aspetto di quella stanza gli fecero un effetto orribile. La transizione era troppo brusca, il contrasto troppo assoluto perché la sua ambizione non crescesse a dismisura. Da un lato le fresche e incantevoli immagini della società più elegante, volti giovani vivi, circondati dalle meraviglie dell'arte e del lusso, intelligenze appassionate piene di poesia, dall'altro visioni sinistre, incorniciate di fango e facce dove le passioni non facevano che rivelare la loro frusta trama. Gli tornarono in mente e la miseria fu lì per commentarli gli ammaestramenti e le capziose offerte della signora de Boseon, dettati dalla sua collera di donna abbandonata. Rastignac decise di seguire due vie parallele per giungere alla ricchezza, far leva sulla scienza e sull'amore, essere un dotto laureato e un uomo alla moda. Era ancora un vero bambino. Queste due linee sono come asintoti che non possono mai ricongiungersi. Ha un'aria molto cupa, signor Marchese, gli disse Vautrin, rivolgendogli uno di quegli sguardi con cui sembrava penetrare nei segreti più riposti del cuore. Non sono disposto a tollerare gli scherzi di chi mi chiama signor Marchese, gli rispose. Qui, per essere veramente marchesi, bisogna avere centomila lire di rendita e quando si vive in casa Vautrin, non si è precisamente prescelti dalla fortuna. Vautrin guardò Rastignac con aria paterna e sprezzante, come se avesse voluto dire, marmocchio, ti potrei mangiare in un boccone. Poi rispose, è di cattivo umore forse perché non ha avuto successo con la bella contessa del resto. Mi ha chiuso la porta perché le ho detto che suo padre mangiava alla nostra tavola, esclamò Rastignac. Tutti gli ospiti si guardarono tra loro. Papà Goriot abbassò gli occhi e si voltò per asciugarli. Mi è entrato un po' del suo tabacco nell'occhio, spiegò al vicino. Chi infastidirà papà Goriot, d'ora in poi avrà a che fare con me, affermò Eugène guardando il vicino dell'ex pastaio. Lui vale più di tutti noi, non parlo per le signore, precisò volgendosi verso la signorina Taifere. Fu una frase conclusiva. Eugène l'aveva pronunciata con un'aria che mise a tacere i commensali. Solo Vautrin gli disse Beffardo. Per prendere papà Goriot a suo carico e diventarne il paladino, bisogna saper adoperare bene la spada e la pistola. È quello che farò, disse Eugène. Allora oggi è sceso in guerra. Può essere, rispose Rastignac, ma non devo rendere conto a nessuno dei miei affari, dal momento che io non cerco di indovinare quelli che combinano gli altri di notte. Vautrin lo guardò di traverso. Ragazzo mio, quando non ci si vuole lasciare ingannare dalle marionette, bisogna entrare decisamente nel baraccone e non accontentarsi di guardare dai buchi della tenda. Basta con le chiacchiere, soggiunse vedendo che Eugène si stava inalberando. Faremo un discorsetto insieme quando vorrà.